coronavirus reggio calabria gallico isolamento fake o verità iniziamo così fai circolare questo di messaggio sono il comandante alla stazione dei carabinieri di gallico gallico non è assolutamente isolata non c'è nessun focolaio non c'è niente di quello che state dicendo se avete notizie del genere venite a riferirle a me e vi denuncio per procurata allarme tutti allora si capisce tranquillamente che una fake news una forza dell'ordine un maresciallo dei carabinieri ci vi dice chiaramente che quelle informazioni che stanno girando sono sbagliate anche perché realmente l'evoluzione dei fatti è stata questa verso le ore 10 e 30 comunque metà mattinata iniziano a girare video che se riesco li metto qui accanto a me dei posto di blocco materialmente che si stava attuando a gallico semplici controlli se così vogliamo dire certo la domanda che qualcuno si fa ma perché solo a gallico in quanto nel resto della città non ce n'erano o non erano filmati non erano attivi un certo punto arriva questa notizia sui cellulari si comincia a girare questo messaggio e credo stia cercando proprio di capire chi è stato a mandare questo messaggio perché come lo dice lo stesso maresciallo vuole mettere chiarezza su questa situazione e vuole fargliela pagare a chi dice queste cavolate e arriva questo messaggio focolai accertato a gallico partito da tale santo caracciolo rientrato da milano senza avvisare ovviamente è stato denunciato e adesso ricoverato in rianimazione proseguito col dipendente di teblasi che abita a gallico la prefettura sta valutando col mistero la chiusura dell'intera area tra gallico catona san batello di miniti e villa san giuseppe allora o abbiamo un nuovo stupido perché pur volendo che fosse vera un'informazione del genere non si deve divulgare sicuramente perché se no non si contiene il virus e io premetto il fatto che mio zio è in quella zona e stamattina è stato fermato proprio dalle forze dell'ordine una forma io lo volevo intervistare lo volevo chiamare sfortunatamente lui mi ha detto guarda non lo facciamo perché creiamo più polverone di quello che è onestamente gli ho detto sì hai ragione si può fare io volevo semplicemente così per capire cosa succede quando ti fermano se ho capito bene l'hanno fermato gli hanno fatto parcheggiare la macchina fare il foglio di auto il foglietto quello che sta girando di autocertificazione per potersi muovere è tutto risolto la sua compagna tranquillamente può andare a lavorare a prelevare a fare quello che deve fare per poi fare la spesa certo la domanda che tutti ci poniamo in questo momento a reggio calabria è sull'effettivo è vero abbiamo quattro casi sì dovrebbero essere quattro casi non più tre e di questi quattro casi tre sono provenienti da gallico di sicuro nessuno pensa un focolaio lì ma di sicuro in questo momento è lì il punto in cui qualcuno l'ha trasmessa a qualcun altro la mega scusate la mia solita volgarità stronzata di mandare questi messaggi è veramente una stupidità infinita ho sfortunatamente ho avuto fortunatamente ho avuto modo di parlare con una persona verso le tre e mezza del pomeriggio con la bicicletta elettrica che andava a sbrigare le sue cose presso la posta praticamente già mi ha fatto vedere una foto questa non ce l'ho che il posto di blocco alle ore 2 e 30 mi ha fatto vedere quando ha fatto la foto già non c'era più quindi non c'è più alcun problema cioè ansie finite tutte ora però la domanda che ci stiamo facendo soprattutto le persone di reggio è perché però il posto di blocco solo a gallico perché lo fate lì dove per l'appunto c'è stato qualche caso in più è logico che pure le persone parte un attimino d'ansia e si fanno qualche domanda quindi forse forse se li facessero in tutta la città per bene sarebbe meglio ma oggi questo video non lo faccio per questo discorso tanto anche perché che sia una fake news penso che spero che la maggior parte di voi lo sappiano e se non lo sanno in questa maniera siamo tranquillissimi la cosa che si sta propagando in questo momento un'altra informazione o un'altra paura che si sta mettendo nelle persone è in riferimento a quello che ho detto nei giorni precedenti cioè voglio le forze militari io l'ho sempre detto perché in questa maniera si può contenere partendo dal presupposto che sono felice di aver visto una città molto diversa cioè diversa un poco passeggio poche persone in giro questa cosa mia mi fa credere abbastanza in un futuro migliore logicamente però incominciano a girare messaggi e insinuazioni e cose che materialmente a grandi linee io ora non posso leggervi messaggi infiniti e cose che sto ricevendo che materialmente le forze militari si erano già preparate da tempo avevano già fatto in un tempo prestabilito delle prove le chiamavano per una cosa queste prove in verità sono cioè si stavano preparando per una cosa che in verità era un'altra dicono tutti c'è un fondo di verità cioè nel senso che in questo momento che cosa fanno prendono le varie informazioni che hanno le uniscono in un discorso che ha senso perché se tu ometti tanti passaggi in mezzo probabilmente quello che dice ha senso perché sull'effettivo è vero che è stato visto un carrammato e l'ha detto la televisione non mi ricordo quale telegiornale è vero che in questo momento le forze militari in qualche maniera si staranno preparando perché non è che le chiami e arrivano saranno messe in pre situazione di allerta quindi vedere tutte queste cose io onestamente non vi so dire se questa cosa è nessuno in questo momento lo sa dire se quello che sta girando cioè che praticamente c'è tutto un piano prestabilito per qualche motivazione arcana per far sì che le forze militari arrivino e facciano brutte cose materialmente che cosa faranno non si capisce cioè brutte cose nel senso che si attivano e da quel momento in poi succederanno brutte cose che cosa faranno non si è capito quale sono queste brutte cose separazione divisione abbandono dell'italia del sud italia boh cioè tutte cose non ci sono troppe cavolate che girano per poter avere un'informazione reale è vero che però ci sono i militari in giro è vero che però si stanno preparando ma la mia richiesta di volere i militari perché c'è qualcuno che me la ha contestato e mi ha detto vedi che cosa vuoi tu vuoi avere questa cosa no come vedete il governo si sta muovendo di giorno in giorno stanno uscendo nuove cose per esempio per chi è proprietario di partita iva le bollette eccetera eccetera si stanno organizzando dei modi già oggi sono uscite alcune informazioni per poterle pagare in ritardo con calma tutte gestite dal governo perché il proprietario dei locali stanno tirando si sente già c'è rumore nell'aria di poter gestire queste situazioni con più calma quindi l'italia si sta preparando secondo me si sta preparando per arrivare a questo fatidico giorno 15 dove probabilmente ci sarà questo blocco delle due settimane io non penso e non spero forse perché sono troppo buono che succeda tutta questa cosa qui è vero che ho letto un articolo e mi ha lasciato questa frase con la quale tra virgolette vorrei lasciare tutti voi di questa situazione qui si leggerà nei libri sicuramente si leggerà nei libri probabilmente neanche i nostri figli io non ne ho per chi ne ha lo studierà forse i figli dei nostri figli già lo vedranno e lo potranno studiare di quello che è successo spero che potranno leggere innanzitutto che l'italia come il resto del mondo si è comportata bene ha saputo eliminare questo virus semplicemente stando a casa prendendo questa semplice precauzione però è anche vero che se succedono altre cose e beh non lo so diventa preoccupante io rimango convinto nel mio totale buonismo e nel credere in un potere comunque che la democrazia è giusta però il panico fa avvenire tanto panico e di conseguenza non si sa quello che può succedere resto ancora della mia opinione che le forze dell'ordine stanno cercando di fare quello che possono ma comunque pure loro stessi potrebbero dare qualcosa di più o qualcosa di meno ma se non c'è sempre qualcuno che li gestisce sopra per quanto ci possano provare c'è poco da fare resto della mia opinione che le forze militari e più che le forze militari noi parliamo di un assemblamento proprio di un'italia diversa con forze militari annesse che ci costringono a stare quei bei 14 giorni dentro casa poter gestire bene queste situazioni in maniera tale che esisteranno veramente i checkpoint per quanto riguarda ambito salute ambito cibo eccetera eccetera con un singolo permesso di una persona sola che può uscire c'è facile questa è una formula per non puoi sbagliare in questa situazione perché poi il focolaio si restringe in una casa in una persona in una casa al massimo in un palazzo è più facile da gestire se l'avessero già fatto ai tempi della lombardia probabilmente questa cosa non sarebbe già spenta così come era se l'avessero fatto bene ai tempi della lombardia si sarebbe già spenta e in verità sta andando avanti ecco perché lo stato deve prendere anche potere e forza e avere queste belle spalle grandi perché se no date agio alle persone di poter creare queste cose che non so se siano vere o meno non so se spero di no sicuramente c'è confido sul no però adesso viviamo con quest'ansia addosso un attimino pure e ci bastano le ansie che abbiamo quindi facciamo una cosa noi intanto abbiamo un governo speriamo che ci faccia andare bene tutto e che ci faccia superare questo momento bene confidiamo nel giusto e per chi invece scrive post stupidi come quello di gallico per quanto riguarda regio calabria e post che non sei sicura al cento per cento non dare neanche opinioni o supposizioni perché metti in panico le persone non lo fare non lo fare perché in questo momento basta il panico che c'è dico solamente questo guardate se ho ragione non l'ho mai fatto in questi video perché l'ho fatto sempre in formula così però visto che sto ricevendo qualche risposta mi piacerebbe ricevere allora anche qualche risposta via like se ho ragione in questo che ho detto lasciatemi qualche like qualche pollicione iscrivetevi al canale fatemi capire che quello che dico è giusto o sbagliato rispondetemi qui sotto perché sono convinto che la stupidità delle persone può portare ancora più panico quindi niente fake news per piacere perché bastano le news che abbiamo giorno per giorno e ogni giorno andiamo a guardarle sperando che ci siano sempre meno morti e meno contagiati non ci servono quelle negative e non ci servono soprattutto supposizioni sbagliate cioè se avete informazioni precise va bene tipo ci sono dieci carrammati di lato a casa mia volete venire a vederli metti una foto se non è così non dare supposizioni perché crei panico solamente e fai sì che una città presa dal panico dal panico dopo di quello che cosa c'è lo lascio immaginare a voi ciao ciao